domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18 e 30 nella chiesa madre santi pietro e paolo di agropoli si terrà la celebrazione eucaristica di benedizione del quadro con la reliquia di carlo acutis beatificato lo scorso 10 ottobre ad assisi la celebrazione sarà animata da un gruppo di giovani ragazzi e sarà presente in collegamento streaming la signora antonia salzano madre del beato carlo il programma di svolgimento dell'evento prevede alle ore 18 e 30 collegamento streaming con la signora antonia salzano madre del beato carlo alle ore 19 benedizione del quadro del beato carlo acutis opera del maestro giacomo pignataro esposizione della reliquia del beato seguirà poi la celebrazione eucaristica e la venerazione della reliquia il tutto si svolgerà seguendo le norme anti covid con il distanziamento interpersonale e l'uso obbligatorio della mascherina nella chiesa sarà possibile inoltre seguire il collegamento e la celebrazione eucaristica anche in diretta su cilento channel canale 636 del digitale terrestre il parroco don carlo pisani invita tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con gioia anche spiritualmente